La scuola per me dovrebbe essere aperta dalle 8 della mattina fino a mezzanotte almeno. Questo proposto l'ho fatto una volta in televisione al ministro Berlinguer nel 98 e lui ha detto che chi mi paghi i bidelli? Ha detto che questi sono i problemi, allora basta, lasciamo le chiudere. Allora una la chiudiamo e non se ne parla più. I ragazzi oggi non hanno più luoghi di socializzazione. Una volta avevamo gli oratori, le sezioni di partito. Oggi quali sono i luoghi di socializzazione? Il bar? E cosa fa uno al bar? Beve? Punto. Neanche le discoteche sono luoghi di socializzazione, perché tanto non puoi parlare dalla musica fortissima che hai e dalla testa ormai rovinata dalle droghe che assumi in quella serata. Ecco, allora i luoghi di socializzazione sono fondamentali, soprattutto adesso in una cultura dove la gente socializza attraverso i mezzi informatici, dove tu il corpo dell'altro non ce l'hai mai davanti. E quindi bisogna trovare questi luoghi di socializzazione. Che possono essere le scuole? Sono edifici enormi, pieni di aule, pieni di spazi vuoti. No? Benissimo. Poi in questi luoghi puoi benissimo coinvolgere… Ci sono giovani che mettono su dei teatri, giovani che mettono su degli atelier d'arte, giovani che insegnano a fare il cinema, giovani che insegnano a fare gli attori. Ecco, e allora dagli queste benedette scuole, che magari qualche studente può andare lì a imparare una roba. Non è che necessariamente questi giovani che fanno queste attività alternative devono insegnare, ma se lo fai nella scuola qualcuno ci va lì. E allora incomincia una socializzazione e anche una visualizzazione dei processi vocazionali. Uno vuol fare l'attore, vuol fare il pittore, vuol fare il musico. Vedere che cosa vuol dire questa roba qua. Bisogna tenerle aperte. Ma in quelle scuole lì poi si possono fare i compi, si può anche fare l'amore, perché no? È l'età giusta, perché dove si deve fare? Vicino ai muretti, in camporello, dove? Dove che si fai? Al cinema neanche, no? Perché lì te ne mettono uno vicino all'altro, non è come quando andavamo dove volevamo. Però allora non succedeva niente, eravamo malmessi. Benissimo, allora cosa succede a questo punto? Che se la scuola diventa un luogo di socializzazione, allora sei che svolge una funzione importante. E uno non è che si sente sequestrato quando va a scuola, perché diventa la sua casa. Poi, non so, i bidelli, ma questi ragazzi sono ragazzi che hanno dai 15 ai 18 anni, parlo soprattutto delle superiori. Ci sono le scuole da imbiancare, ma non sono capaci di prendere un pennello, una roba, e imbiancarsi nella loro aula. Però se in quell'aula lì succede qualcosa di interessante, allora ti voglia anche di metterla a posto bene, no? Altrimenti no, io sono andato giù in Puglia, a una scuola vicino a Maglie, la quale era un edificio con intorno un terreno enorme, ridotto a una discarica. Questi ragazzi volevano che io tornassi, abbiamo fatto un parto, io torno alla Noventuro se mi metteranno a posto sto giardino. Prima mi hanno dato le foto, bene? Non è successo niente, non è successo niente. Perché, perché? Perché ci vuole dei presidi che si muovano in questa direzione. Ma come fa un preside, se fa mettere a posto il giardino, mi dice, se io faccio mettere a posto il giardino e poi uno si fa male? E questa è la logica. È una fuga della responsabilità, ragazzi miei. Una fuga della responsabilità. Grazie a tutti.